Buongiorno a tutti, oggi proviamo a ricrollare Airpods Polarista 360 per cercare di migliorare l'audio, in quanto molti commenti sotto i video mi hanno segnalato una voce molto bassa, con una velocità di 15-16 km per l'ora e fatemi sapere come si sente, non c'è molto vento, quello che sto provando oggi è il mio giro classico per ricarmi al lavoro, non da lungomare come faccio di saluto. Bene il video è finito, fatemi sapere nei commenti come si sente, ci vediamo alla prossima.